Tecnicamente come si interverrà oggi per monitorare la situazione? Innanzitutto noi siamo qui ormai da tre giorni, quindi dall'inizio dell'emergenza, quando la frana è iniziata a muoversi. Come ben sapete è una frana di ampissime dimensioni, che sta coinvolgendo 24 abitazioni, per il momento speriamo che si fermi lì, e abbiamo evacuato 76 persone dalle loro abitazioni. Il lavoro che stiamo facendo oggi come Vigile del Fuoco è quello soprattutto di assistere alle persone che hanno necessità di recuperare dalle loro abitazioni i beni più preziosi, magari ricordi di una vita, tutto ciò che gli può essere necessario in questa prima fase della loro emergenza, se così vogliamo dire. E poi in più abbiamo ulteriori situazioni, stiamo monitorando degli edifici che hanno subito crolli o comunque dissesti importanti, rilevanti. Abbiamo un'emergenza nell'emergenza che è rappresentata da alcuni serbatoi di GPL, quindi di gas per uso domestico, e quindi adesso con i colleghi stiamo contattando le aziende distributrici del gas per venire sul posto e recuperare il GPL da questi serbatoi, perché sono in una zona che è soggetta a movimento di terreno, spesso in prossimità di fabbricati che sono dissestati in maniera seria, quindi a rischio crollo, e quindi l'esigenza immediata è anche quella di evitare ulteriori pericoli, rimuovendo questi serbatoi dove è possibile, ma spesso non è possibile, si tratterà soprattutto di prelevare il gas all'interno con delle autobotti e poi inertizzare i serbatoi stessi. Sta per alzarsi un drone che dovrà inquadrare meglio la situazione dall'alto per dare un monitoraggio più completo? Sì, ieri la protezione civile ha fatto un sorvolo in elicottero per rilevare esattamente l'area soggetta a movimento franoso con degli esperti della protezione civile nazionale e oggi abbiamo i droni dei vigili del fuoco che stanno rilevando tutta l'area affinché venga definita esattamente qual è la zona soggetta a movimento e poi in più un'attenzione più precisa sui fabbricati che hanno subito dissesti dalla frana stessa. Quali le operazioni nei prossimi giorni invece? Nei prossimi giorni continueremo a fare tutta quella attività di assistenza alla popolazione che è la cosa più importante perché come ripeto queste persone da un momento all'altro hanno avuto un'ordinanza di sgombero, quindi sono dovuti andare via immediatamente alle loro abitazioni e prima che questi edifici subiscono crolli pesanti perché il movimento franoso è ancora in atto ed è un movimento piuttosto rapido e quindi c'è esigenza di prelevare dall'abitazione tutto ciò che è possibile.